Nel momento in cui oggi la persona umana è spesso rigettata come inutile perché non rende più, Dio, al contrario, riconosce sempre in essa la dignità e la nobiltà di un figlio amato. E sa un posto privilegiato nel suo cuore, il povero e il preferito del Signore, è il centro del Vangelo. È il cuore del discorso del Papa ai membri del Foyen Notre Dame de Saint-Sabri, fondato da Gabriel Rosset, da sempre al fianco dei poveri, delle persone che la società rifiuta, che non hanno un tetto né qualcosa per sfamarsi, afferma il Pontefice, che sono senza lavoro e perciò senza dignità. Francesco ricorda che loro sono Cristo sofferente, pertanto prendersene cura significa toccare le sue ferite e curarle, ma allo stesso tempo i poveri permettono l'incontro con Gesù. Ci evangelizzano sempre, soggiunge il Papa, ci comunicano la sapienza di Dio, misteriosamente. Pertanto annunciare al mondo di oggi il Vangelo è possibile attraverso la testimonianza di misericordia che si offre nelle azioni concrete, nei gesti semplici per ridare dignità a chi l'ha perduta. Infine il Papa ricorda la dimensione mariana del movimento e Maria è infatti a dare un tetto ai suoi figli perché il suo cuore è pieno di compassione verso i poveri e gli svantaggiati. Grazie a tutti.